Buongiorno e ben trovati a questo ultimo appuntamento della settimana con Mattino 6, la rassegna stampa inizia subito con le prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo a sfogliare anche quelli nazionali. Andiamo sul touchscreen per vedere insieme la prima pagina del quotidiano Il Centro nella edizione di Pescara. Eccola qui il titolo di apertura è Toleranza Zero, 568 multati in città a Pescara offensiva dei vigili urbani anche contro chi parla al cellulare mentre guida. Andiamo avanti, a centro pagina troviamo la fotonotizia, bellezze naturali, castelli, cascate, fontane e ville con il FAI alla scoperta dei 35 tesori d'Abruzzo per la giornata domani del FAI d'autunno. Poi nelle cronache Parma-Pescara alle 15, la Serie B in campo, Capone-Mancuso, ecco le mosse di Zeman. Scendiamo ancora, sempre da Pescara, la madre 34enne stroncata da un'embolia e morta per una tromboembolia polmonare massiva, gelsomina con le vecchio, 34 anni di Montesilvano, deceduta nel reparto di medicina dell'ospedale di Pescara. E poi a Gis si vince 2 milioni alla lotteria con 10 euro. In Abruzzo le scuole sicure arriva a Striscia per l'inchiesta fatta dal quotidiano Il Centro e poi emergenza neve da Alfonso annuncia 6 turbine nuove. Ancora livello delle cure e sanità, l'Abruzzo promosso dal Ministero. Andiamo nel taglio alto per rivedere gli altri richiami dalle pagine interne e dalle cronache nazionali. In questo caso manovra finanziare il Governo dallo stop alle scalate degli investitori esteri. Vedete nella foto il Ministro dello Sviluppo Economico Calenda. Poi la maxinchiesta, poi Deofilia, arrestato un giudice e un chietino tra i 47 indagati. Scendiamo nel taglio basso, andiamo a vedere insieme il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna. Ci vuole il Giro d'Italia per rifare le strade. L'arrivo del Giro era una doppia festa quando eravamo bambini, innanzitutto perché potevamo vedere da vicino i colori dei ciclisti e poi perché i maestri ci portavano fuori a vedere la carovana del Giro. Oggi vi riassumo un po' il senso dell'articolo e il pretesto per sistemare e manutenere le strade della nostra regione. Andiamo avanti sulla prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura, abbiamo già visto la notizia in precedenza, gratta e vince 2 milioni. G si caccia il fortunato, ha lasciato in tabaccheria una fotocopia del biglietto acquistato per 10 euro. Nelle cronache ad Atessa, la Honeywell e gli operai bloccano la Fondovalle. Ieri pomeriggio corteo di protesta dei 420 lavoratori dello stabilimento di Atessa. Poi Chieti al Megalò, mille parcheggi a pagamento. A Lanciano, Cinghiani Strada, altra condanna per la regione. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere la prima pagina di Teramo. Spariti 250 mila euro, bancario nei guai. A Teramo, cliente denuncia un dipendente dell'Unicredit. Soldi tolti dal mio conto corrente. Questa la denuncia. Nelle cronache ritroviamo il calcio, questa volta con la Serie C. Oggi in campo il Teramo, che vuole decollare con l'ambizioso Padova. E poi Tortoreto, Tari e Imu in 10 anni evasi 2,8 milioni. Giulianova, città blindata per il corteo degli anarchici. Cambiamo ancora pagina, restando sempre al quotidiano Il Centro. Questa è la prima di L'Aquila Vezzano sul Mona. A titolo di apertura, gli studenti dateci scuole sicure. Questa è la richiesta dei mille studenti in piazza all'Aquila che chiedono anche sedie adeguate a otto anni e mezzo dal terremoto. Nelle cronache a Vezzano, la crisi politica in comune, De Angelis non farò accordi con Di Pangrazio dopo la sentenza del Tarre che lo ha messo in minoranza cambiando l'assegnazione dei seggi. Poi sul Mona, fondi regionali per aiutare i più poveri. A Vezzano ha trasferito il presidente del Tribunale, Eugenio Forgillo. Lasciamo il quotidiano Il Centro. Adesso passiamo a vedere insieme la prima pagina del messaggero. L'inserto Abruzzo apre con i soldi per prevenire le calamità. La regione stanzia 56 milioni per le strade provinciali. Arriveranno anche 6 turbine. Il governatore D'Alfonso dice faremo in modo di evitare disastri come quello di Rigopiano. Ancora interventi. Pescara via al macchiage degli asfalti. 200 giorni di lavoro per 103 strade a Pescara, oggetto di manutenzione. Scendiamo a centro pagina. Scuole insicure. Scioperano 800 studenti. All'Aquila, lungo corteo in città, al grido. Siamo stanchi di non sentirci protetti. Poi nella fotonotizia l'avvertenza della Oneiwell. Bloccata la Fondo Valle Sangro. Ieri la protesta dei lavoratori a rischio. Nel frattempo è arrivata la convocazione del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. per il 17 di ottobre. E poi di spalla test nucleare. I laboratori sospendono l'esperimento. Accolta la richiesta della Regione di fornire altre informazioni. Poi più avanti nella prima pagina della città vedremo anche altri approfondimenti su questo argomento. Nel taglio basso l'inchiesta a rete di pedofili indagato un chietino. Vasta operazione della Procura di Trento contro la pedofilia online. Inchiesta che ha toccato anche la nostra Regione. Andiamo nel taglio alto adesso per vedere gli altri richiami dalle pagine interne. Ad Avezzano, Anatra Zoppa, De Angelis continuo a governare. Poi Gissi gratta e vince 2 milioni e caccia al paperone. Poi lo sport con la partita delle Pescara. Zeman cambia il Pescara oggi a Parma con tante novità. Altardini tornano Mancuse per Rotta. Forse spazio anche per Gans. In Serie C il Teramo cerca l'impresa nella gara casalinga con il Padova. Naturalmente potrete seguire come sempre tutte le partite in diretta con il commento di Andrea Costantini dallo studio e per quanto riguarda la partita del Pescara con Paolo Renzetti. Mentre per la partita del Teramo con Jacopo Forcella per quanto riguarda diretta stadio. Continuiamo con la nostra rassegna. Andiamo sulla città. Il titolo di apertura riguarda la Tercas, crack Tercas, maxi risarcimento bis. Il vicepresidente Claudio Di Gennaro condannato a 176 milioni di danni. Con Di Matteo fanno 369 milioni. Andiamo avanti. Sempre sulla città a centro pagina. Ritroviamo, come detto, l'allarme laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso. Monta la protesta per l'acqua sicura. Esperimento radioattivo autorizzato tre anni fa, scrive la città. E poi nel taglio alto a Teramo, prima del voto sul bilancio, è già scattato il Toto Panettone. Poi di spalla, Gloriano Lanciotti, la Camera di Commercio di Teramo è al sicuro, così il presidente. Poi Sant'Egidio, auto contro un muro, grave un 25enne. Per quanto riguarda invece le altre notizie del taglio basso, i cani tolgono altro spazio ai bambini per i giardini giuliesi. E poi la guida 2018, Vini d'Italia, l'Abruzzo Sifonore, premiattie 16 etichette. E ancora il calcio di Serie C con il Teramo in campo che prepara il colpo al Padova. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso andiamo a vedere insieme le prime pagine nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura è sulla crisi internazionale aperta da Trump sul nucleare. Trump smonta l'intesa con l'Iran, protesta l'Unione Europea nucleare. Anche la Russia prende le distanze dal presidente statunitense. E poi in piazza gli studenti dovrebbero chiedere di più. Il titolo sulle proteste è il senso della scuola-lavoro. Il corteo degli studenti contro l'alternanza scuola-lavoro chiedono che questa misura messa in campo dal Ministero dell'Istruzione sia messa a regime in maniera più congrua rispetto ai percorsi di studi fatti dagli studenti. Andiamo adesso sulla Repubblica. Il titolo è il candidato premier. Resto io, Renzi, al forum di Repubblica. Non alle primarie di coalizione. Se salta il PD, salta il sistema. La legge elettorale un piccolo passo avanti. La fiducia non è una forzatura democratica. Così il segretario del PD. E poi dietro fronte sul nucleare Macron con Tehran. Trump rompe l'accordo con l'Iran. Sanzioni ai terroristi. Gelo della Unione Europea. Proprio le sanzioni ai terroristi. È quanto chiesto dal presidente statunitense per non cestinare l'accordo che era stato firmato, ve lo ricordo, sotto l'amministrazione Obama. L'intervista sulla tragedia del 2013, Pinotti e il naufragio. Bisogna chiarire chi sono i responsabili per quanto riguarda il dramma di tre padri partiti dalla Siria per salvare le famiglie che hanno assistito impotenti alla morte dei loro cari in mare. Andiamo adesso sulla stampa. Il quotidiano torinese dedica l'apertura alla crisi internazionale. Trump all'Iran. I missili violano l'intesa nucleare. Da Washington avvertimento a Unione Europea e Italia. Adottate le nostre sanzioni contro Tehrani. Pasdaran replicano. Possiamo colpire le basi USA nel Golfo. La nave dei migranti bambini è a centropagina nella fotonotizia. A Palermo sbarcano 606 profughi, 200 minori e 120 senza famiglia. E poi il governo blinda i gioielli di Stato. Decreto fiscale più fondi ad Alitalia e tempi più lunghi per rottamare le cartelle esattoriali. Il ministro Padoan sulla legge di bilancio non temiamo imboscate in Parlamento. Andiamo adesso sul fatto quotidiano. Pure il fascistellum è scritto coi piedi ma la solita Boldrini sbianchetta l'errore. Soccorso rosso due modi di distribuire seggi. Se ne ha accorto per primo Alfredo Dattorre. Nel caso in cui una forza politica elegga tutti i suoi candidati in un collegio ci sono disposizioni divergenti per attribuire i posti in Parlamento. E questo è il piccolo errore che mette in risalto il fatto quotidiano. E poi dieci anni dopo quel che resta del sogno, funeral party del PD, Prodi e Parisi. Oggi è un giorno di lutto. Così i fondatori, quelli che sono stati tra i maggiori fondatori del Partito Democratico in riferimento soprattutto alla fiducia imposta sulla legge elettorale. A centropagina la marcia sulle nomine resta Toschi scaricato del 7. Non solo difesa, trovato nel decreto fiscale lo strumento per lo spoils system. Con il trucco delle coperture previdenziali di pochi militari di alto rango viene inserito nel documento economico il sistema per un giro di poltrone. Il sole 24 ore, il quotidiano economico e finanziario principale del nostro Paese. Primo stop all'aumento dell'IVA, un miliardo dalla rottamazione il titolo di apertura. Ha varato il decreto fiscale 500 milioni al Fondo Occupazionale 300 dall'Italia. Lunedì la legge di bilancio split payment esteso a controllate della pubblica amministrazione ed enti pubblici economici. E poi una notizia che riguarda l'agricoltura. Pronta la nuova PAC, incentivi ai giovani e meno burocrazia. A centro pagina andiamo a vedere quest'altra notizia. Hightech, Samsung fa utili record più 300% ma il CEO deve lasciare. E poi, parla Casini, inchiesta su tutti i dissesti bancari, atti già chiesti a Banca Italia e Consob. Il presidente della commissione, il sistema non ha funzionato e va corretto. Andiamo a vedere anche il focus tradizionale nel taglio alto del sole. Contabilità, il contratto fa da guida per un bilancio corretto. Il messaggero apre con Alitalia. Alitalia ha più tempo per vendere. Il governo sposta al 30 aprile il termine per le proposte d'acquisto e aumenta il prestito ponte. Norme antiscorrerie, golden power più forte per blindare le imprese. Via alla rottamazione bis, diciamo che il titolo prende una parte del provvedimento di bilancio. E poi, come vedete, c'è il riassunto di tutto il resto. La riforma elettorale. Prodiani in lutto per il Sial Rosatellum. Maggioranze difficili con la nuova legge. Questo è il dibattito all'interno del Partito Democratico. E poi, gli studenti in corteo contro la scuola lavoro stanchi imitatori del Neo 68. E ancora, Trump riapre il fronte Iran, regime fanatico e terrorista. Rotti gli accordi sul nucleare, Mosca e l'Unione Europea, intese per noi ancora valide. Andiamo sul tempo. Il titolo di apertura è sul caso Battisti. Arrestau, meravigliau è il titolo un po' così sarcastico del quotidiano Il Tempo. C'è la più vicina, dopo il presidente e pure il ministro della giustizia, brasiliano Molla Battisti, che sfotte i parenti delle vittime. Niente scuse, ecco il racconto di quando uccise Sabadin. Poi, a centropagina, al banno e le voci sul futuro in politica, c'è un posto in lista all'estero con Forza Italia. Io, il cavaliere e la candidatura in Russia. Andiamo sul manifesto adesso. 70 in condotta, il titolo sulla fotografia degli studenti che tornano in piazza. Cortè in 70 città contro l'alternanza scuola-lavoro, resa obbligatoria dalla buona scuola di Renzi. Non vogliamo essere schiavi delle aziende, dicono gli studenti. 130 mila le imprese coinvolte a ospitare, tra virgolette, il lavoro gratuito dei giovani. McDonald's in testa, McDonald's che è stato fatto oggetto nelle sue filiali, nei suoi punti vendita di alcuni lanci di vernice. Poi, la Casa Bianca boccia l'Iran deal. Il presidente statunitense non certifica l'accordo, Russia-Cina e Unione Europea compatte. Noi restiamo invece fedeli all'accordo firmato. E poi il Venezuela alle urne, Maduro si gioca la rivoluzione. Venezionale alle urne domani per le elezioni locali, ma in ballo non ci sono solo 23 governatori. Questo voto infatti apre la porta a una riconfigurazione della crisi politica che danni attanaglia il paese e che quest'estate è raggiunta sull'orlo di una guerra civile. Ora libero, andiamo a vedere il titolo di apertura. Gli studenti protestano, non vogliono lavorare. Organizzati 70 cortei in Italia. Paradossale manifestazione. Migliaia di ragazzi sfilano per opporsi ai progetti di alternanza scuola-azienda. Dicono che non desiderano fare gli schiavi e preferiscono la carriera di Bamboccioni. Vedete, lettura diametralmente opposta rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza sul manifesto. E poi, all'epoca degli incontri aveva 21 anni, Asia Argento fa il dito a noi, ma disse sì al boss sporcaccione. Questo per quanto riguarda lo scandalo che sta sconvolgendo Hollywood. Andiamo avanti. La verità. Ecco le priorità del governo. All'Italia 300 milioni e ai disabili niente. Martedì familiari dei malati non autosufficienti scenderanno in piazza per protestare contro la nuova legge che non li tutela. Intanto si scopre che i soldi per le pensioni anticipate non ci sono, ma si trovano subito per la fallimentare compagnia aerea. E poi a centropagina, Zaia, il 22, ci liberiamo di Roma. Prete e Grillini sono con me. Questo è il titolo sul referendum in Veneto e Lombardia. E poi, ancora, sotto la fotografia, parte l'invasione degli immigrati minorenni. Ricominciano gli sbarchi. A Palermo, 241 nuovi arrivati su 606. Non hanno ancora 18 anni. Resteranno tutti qui. Il secolo d'Italia, restando i quotidiani di destra. Centrodestra in fuga. Il titolo del quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Intenzioni di voto. Situazione pressoché invariata nel sondaggio. realizzato dal secolo. Il centrodestra unito registra, rispetto alla settimana scorsa, un piccolo incremento. Ma con il 34,3% rimane di gran lunga lo schieramento in testa alla classifica. E poi, in primo piano, le altre notizie, studenti in piazza, che noia, riecco i soliti vecchi slogan. E poi è sempre Berlusconi mania, cresce l'attesa per il film. Ancora, diciamo tutti, buon Natale. Trump sfida i liberal statunitensi. Avvenire il quotidiano cattolico titola. Trump mina alla base l'accordo con l'Iran. Né un regime terrorista non deve avere l'atomica, tuona il presidente degli Stati Uniti, che non certifica l'intesa. Rimanda al congresso la decisione su nuove sanzioni. Tehran, se si ritirano, lo faremo anche noi. A centro pagina, dai neonati ai 12 anni e soli, un carico di bambini a Palermo, su 600 soccorsi in mare, dalla nave Aquarius 241, i minori di varia età. Anche qui vedete le letture differenti, a seconda delle posizioni politiche e culturali dei diversi giornali. Just Culture, manifestazione a Roma e non solo. Tutti i cittadini in piazza, i nuovi. italiani. Continuiamo sul mattino di Napoli. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Roma-Napoli, la notte dell'esame di maturità. E poi Trump rompe l'intesa sul nucleare con l'Iran. Il titolo che abbiamo già visto anche sugli altri quotidiani, sulle parole del presidente degli Stati Uniti. Poi ancora, CPL Concordia non era mafiosa. Il verdetto dopo cinque mesi di arresti e due anni di indagini, oggi al vaglio del CSM. Il caso Woodcock ha assolto l'ex manager Casari, un'accusa infamante che paga anche il Sud. A Ravello vedete la foto di Berlusconi, il cavaliere testimone di nozze, noi pronti a tornare al governo. Ogni occasione è buona per fare campagna elettorale. Poi il secolo XIX, nel quotidiano genovese, apre con il provvedimento di bilancio cartelle esattoriali, più tempo, pensione anticipate in Liguria esclusi oltre il 40%, i sindacati chiarire la norma, ecco i nuovi limiti per rottamare i debiti fiscali, la manovra norme antiscalate. E poi i cortei sull'alternanza scuola-lavoro da parte degli studenti. Andiamo a vedere insieme anche i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, è un super weekend di tutti contro tutti. Vedete qui un campo affollato di giocatori, due giorni di svolta per il campionato. Si scontrano le prime sei tra Torino, Roma e la Milano del Derby da record. E allora andiamo a vedere Lazio-Juventus, Allegri, mossa a sorpresa di bala in panchina e sprona Higuain. Sarà il suo mese in Zaghi, sogna la replica della Supercoppa ma servirà la gara perfetta. E poi Roma-Napoli di Francesco alza il muro, lo scudetto andrà a chi subisce meno gol. Sarri si affida ai senatori per restare in vetta e vincere anche il mal di trasferta. E poi il Derby, Inter-Milan, Borcavalero dice, Pupillo di Montella ora lo è di Spalletti e quel diavolo ha conti in sospeso. Biglia, Suso decisivo, il nostro Messi, Vincenzo e Bonucci, critiche ingiuste. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport. Il titolo sulla fotografia di Paolo Maldini nella 2x2 di Walter Veltroni, scudetto al Napoli. Questo è il titolo, Paolo Maldini si racconta dagli inizi alla Nazionale, parla delle super sfide. L'anno di Sarri sa dare spettacolo. L'Inter domani parte favorita ma i rossoneri potrebbero fare il colpo. Nel taglio alto, Juve Lazio, Allegri punta su Iguain e il suo mese la rivincita della Supercoppa in Zaghi. Ci prova Roma-Napoli, Juve Lazio alle 18, Roma-Napoli alle 20.45. Di Francesco per la Roma partita chiave, Sarri presenta il suo tisente e che duelli social. E domani alle 20.45 c'è il Derby di Milano. Montella un Derby che fa paura, Inter-Bunker che si ecco l'ora del Milan. Scendiamo nel taglio basso, in Serie B Foggia fa il colpo, il Perugia piange. L'anticipo è finito 2-1 per i pugliesi, crisi Umbra-Palermo che test col Frosinone. Per l'estero Mourinho vuole la storia, per lui è record se vince anche con il Liverpool. E poi domani sveglia con la moto alle ore 7 e Dovizioso promette bene. Andiamo su Tutto Sport. Il titolo è Mazzate. Vogliono vederci a terra ma noi non mogliamo con la fotografia di Allegri con questa mazza da baseball. E insomma alle prese appunto con il baseball. Il calcio non diventi come il baseball, dice Allegri. Alle 18.00 Juventus-Lazio. Il tecnico Bianconero attacca. Ho solo detto che il baseball dura tre ore e io ci ho anche giocato. Se offeso qualcuno chiedo scusa. Dai suoi pretende una prestazione superavverte. È il momento di Guain. Montero in corona, Betancourt è uno tosto. Il Torino rinnovo di Belotti. Premio fedeltà, ingaggio da 3 milioni. E poi Roma-Napoli di Francesco. Decisiva quasi e Sarri ripassa il Sassuolo. Questo per quanto riguarda i quotidiani sportivi nazionali che chiudono così la prima parte della nostra rassegna. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna in cui apriremo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Ripartiamo subito con la lettura delle pagine interne dei giornali regionali. Il centro, nella pagina Abruzzo, mette in primo piano la sanità, livelli di assistenza sanità. Il Ministero promuove l'Abruzzo e la regione con il migliore trend positivo. E tra le 11 che hanno centrato gli obiettivi, Paolucci dice andrò avanti così. Andiamo a vedere subito l'intervista all'assessore alla sanità. I risultati degli indici LEA, di livelli di assistenza della rete ospedaliera regionale. Per l'Abruzzo un grande balzo in avanti, Assessore Paolucci. Il più alto, il migliore del paese e che ovviamente sottolinea, essendo anche fonte terza quella del Ministero della Salute, che l'Abruzzo ha messo in campo una riforma valida, che ha incrementato la qualità della prevenzione oncologica, che ha dato risposte migliori sui tempodipendenti e quindi sulla rete di emergenza urgenza per gli ictus, i trauma o gli infarti, che ha messo in campo una rete territoriale migliore, una risposta ospedaliera sui femori per gli anziani, piuttosto che sul percorso materno-infantile e la riduzione dei tagli alle donne con i parti cesarie, che è stata apprezzata. E sono risultati oggettivi, di fonte terza, non strumentalizzabili, per i quali credo che possa esserci un plauso anche dall'opposizione. La performance di 19 punti tra le regioni del centro-sud con la Basilicata, l'Abruzzo è l'unica regione adempiente. È il più alto balzo del paese, più 19, e siamo l'unica regione, tra virgolette, del centro-sud insieme alla Basilicata ad essere adempienti e la seconda tra quelle in piano di rientro appena dopo il Piemonte. Penso che sia un risultato migliore, che ci deve far dire che siamo soddisfatti rispetto al percorso attuato, ma anche dire che bisogna fare ancora di più e ancora meglio, però si può dire oggi che tre anni hanno dato buoni esiti e buoni risultati. Voi state lavorando anche sul potenziamento della rete urgenza-emergenza per quanto riguarda le aree interne? Sì, abbiamo installato diverse postazioni nelle aree interne, davvero tante, perché poi costa anche molto. Vuol dire che la regione, nonostante le ristrettezze economiche, è investito sulle aree interne. Le postazioni di 118 sono dei piccoli pronti soccorso ambulanti, ovvero mobili, che danno nel caso di specie sulla rete di emergenza-urgenza una stabilizzazione in loco e aver ridotto la vicinanza del 118 di questi pronti soccorso che si muovono al cittadino ha certamente garantito molto e di più le aree interne rispetto alle possibilità di sopravvivenza in ragione delle urgenze che possono verificarsi. Andiamo avanti sulla pagina Abruzzo del messaggero strategie di prevenzione. Soldi per le strade e sei turbine contro le calamità. Dalla regione 56 milioni e le province per la sicurezza. D'Alfonso dice mai più impreparati nel caso di emergenza. Andiamo a vedere anche la conferenza stampa che si è tenuta ieri in provincia a Pescara. Abbiamo drenato le risorse facendo un paniere di 56 milioni di euro per le strade provinciali con una logica da gesto istituzionale solidale, una tantum, a favore della viabilità provinciale. Consapevoli, come sempre, che è lo Stato che deve finanziare le province. Io ho battagliato anche con Gentiloni, Labboschi, Del Rio, Lucalotti, De Vincenti, pretendendo in sede di conferenza dei presidenti e Stato-Regione che tornino coperture finanziarie per quanto riguarda le province. E credo che nella legge di stabilità compariranno 8-900 milioni per la prima volta dopo anni di tristezza finanziaria a favore della vita ordinaria delle province. Questi 56 milioni di euro seguiranno la consistenza dei drammi e dei guai che già sono stati rubricati sulle strade provinciali. 16 milioni alla provincia di Chieti, perché è quella più danneggiata soprattutto con i grandi drammi dell'Alto Vastese. 15 milioni alla provincia di Teramo per i grandi problemi che ha nella vallata del Fino. 14 milioni in provincia di Pescara per i drammi che ha nella zona della vallata Vestina. e 11 milioni alla provincia dell'Aquila, poiché la provincia dell'Aquila è fortemente servita anche da una idonea rete stradale statale che si ingrandirà. Per esempio, noi stiamo lavorando, avendo messo al primo posto nel nostro dossier, l'ulteriore inclusione della strada statale che deve essere assunta come tale, ieri provinciale, che porta a Scanno per l'altissimo rischio caduta massi che caratterizza la strada che porta a Scanno. Lo stesso lavoro lo faremo sulla Fossacesi a Lanciano e poi sulla strada della provincia di Teramo che da Silvi porta ad Atri e poi alla SS80. Annuncio in questa sede che noi abbiamo precisato anche le quantità e a che cosa serviranno questi fondi. Non per fare nuove strade, ma per risistemare e mettere in sicurezza quelle che ci sono. In Italia il codice della strada parla di circolazione in sicurezza. Andiamo sulla pagina di primo piano della città. L'arme e laboratori, l'esperimento SOX è stato autorizzato tre anni fa. Gli ambientalisti mettono alla berlina le dichiarazioni della regione e dell'INFN sulla sorgente radiattiva. Vedete nella foto il decreto del 2014 che appunto testimonia quanto scrive la città. Oggi conferenza dell'osservatorio indipendente sull'acqua. Martedì l'incontro a Isola con la regione e l'INFN. Poi mercoledì quello del forum dell'acqua. Scendiamo anche nel taglio basso. La vertenza Atria, altre 40 ore di sciopero all'Atre di Sant'Atto. Va avanti la protesta contro i 55 licenziamenti annunciati. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Adesso andiamo ad aprire la pagina di Pescara. lotta all'inciviltà, tolleranza zero in città, multati, 568 automobilisti, telefonine e sosta selvaggia, le infrazioni più sanzionate dai vigili urbani e contro l'uso del cellulare. Alla guida arriva la task force in Borghese. Sempre per quanto riguarda la lotta così alla inciviltà in città, le letti mobili nell'ex draga sgomberati altri sette disperati. Nuovo blitz sul lungo fiume del nucleo antidegrado della Polizia Municipale. Cinque erano in regola con i documenti, altri due invece sono stati fatti oggetto di provvedimento di espulsione. Teodoro dice basta con gli accampamenti facili ma garantiamo assistenza a chi ne ha bisogno, così l'assessore competente. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Pescara del quotidiano Il Messaggero. Strisce pedonali su cento strade. I lavori saranno eseguiti di giorno e dureranno sette mesi. La città divisa in quattro zone, diviete e disagi per la viabilità. Previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale. Test sulle vernici per evitare che si cancellino troppo presto. Andiamo a vedere anche la conferenza stampa che è stata organizzata ieri dal comune di Pescara e dal vice sindaco Antonio Blasioli proprio su questo argomento. Sì, sì, la conferenza stampa delle strade appunto che annuncia il rifacimento e la manutenzione delle strade comunali. Allora, c'è qualche problema in regia con il servizio che manderemo tra poco. Nel frattempo leggiamo la notizia che abbiamo già letto in precedenza sullo sgombero di sette disperati all'ex Draga, nuova operazione del gruppo Giona, il nucleo antidegrado della Polizia Municipale, procedura di espulsione per un senza tetto. Vediamo adesso sul quotidiano Il Centro le altre notizie di Pescara. La segnaletica cancellata, il comune rifa le strisce in cento strade, due squadre a lavoro da martedì, la spesa è di 400 mila euro. Blasioli dice che con i risparmi interverremo in altre 70 vie. Qui vedete proprio una grafica delle strade interessate dai lavori, zona Nord Colli, zona Centro, zona Porta Nuova Sud e zona Porta Nuova Tiburtina. Mancano 20 milioni per il depuratore Antonelli Rapposeli di Forza Italia, un documento che rivela che servono più fondi per il progetto di ampliamento. Andiamo a vedere insieme il servizio. L'intervento annunciato ieri sarà l'unico intervento realizzabile, peraltro con fondi che sono fondi del Governo nazionale del 2014, quindi su cui non hanno nessun merito, nella regione, nell'attuale governance di Aca, tantomeno il comune di Pescara. La cosa gravissima è che non si realizza il parco della depurazione, fatto di una serie di interventi, il primo dei quali era una vasca di accumulo all'altezza della Madonnina, per contenere le acque meteoriche ed evitare che queste acque, confluendo nel fiume e quindi nel mare, portassero ogni volta l'emanazione di ordinanze di non balneabilità di tratti importanti del mare adriatico di fronte a Pescara. Cosa ancora più grave, non ci sono minimamente i fondi per realizzare la separazione delle acque bianche e delle acque nere, che è un altro intervento strategico sul cui il Consiglio Comunale di Pescara all'unanimità aveva deliberato. Siamo in sintesi di fronte all'ennesima presa in giro da parte della regione a guida d'Alfonso e da parte del comune a guida Alessandrini. Una presa in giro nei confronti non dei consiglieri comunali, ma di tutti i pescaresi che hanno creduto che finalmente fossero maturate le condizioni per interventi seri, così come era stato deliberato dal Consiglio Comunale a marzo 2017. A questo punto occorre che il Presidente della Regione e il Sindaco tornino in Consiglio Comunale a dirci dove andranno a prendere i soldi per realizzare questi interventi che sono prioritari per la vita del fiume Pescara, del mare e della città di Pescara stessa. Andiamo avanti con la lettura dei giornali. La mamma uccisa da un'embolia polmonare, il titolo di cronaca del quotidiano Il Centro, è durata oltre 4 ore. L'autopsia della 34enne morte in ospedale dopo il ricovero resta il mistero su eventuali responsabilità mediche. Domani il funerale a Spoltore. Notizia che ritroviamo anche sul messaggero. morta in ospedale dall'autopsia esce un'altra verità per il dottor Dovidi. Il decesso di Gessomina Collevecchio sarebbe avvenuto per tromboembolia polmonare massiva. Cambia la diagnosi, disposti altri accertamenti per comprendere se vi siano state colpe dei medici. Intanto avvicendamento ai carabinieri Antonio Di Mauro, il nuovo comandante della compagnia di Pescara al posto del Maggiore Claudio Scarponi che è stato trasferito ad Ancona. La nuova Pescara, i dubbi sulla fusione. Il PD insiste sul testo di legge proposto da D'Alfonso. Sospiri teme il commissariamento dei comuni prima delle elezioni. Ieri a Spoltore il confronto pubblico con il professor Fusero. Preoccupato l'onorevole Castricone. No a periferie degradate. La scadenza del 2019 si avvicina. Il centro-destra vede anche problemi per la copertura finanziaria di questo provvedimento. E poi il punto di vista femminile aiuta nelle decisioni difficili. Donne giustizia. La giudice Luccioli parla del suo ruolo in Cassazione e ammonisce. La toga non è un abito da palcoscenico, facendo da eco le parole del Presidente della Repubblica proprio sull'indossare la toga in maniera seria e corretta. Andiamo a vedere sul quotidiano Il Centro le altre notizie da Pescara. Ordine dei medici. Tre giorni alle urne per il dopo Lanciotti. Ancora i volontari fanno lezione su alluvione e terremoti in piazza Garibaldi. La campagna io non rischio. Nell'area metropolitana a Francavilla Luciani e i ragazzi della Via Gluc. Il sindaco fa posare un prato sintetico su Piazza Sirena in attesa del progetto definitivo e su Facebook cita la canzone di Celentano. A San Giovanni Tiatino la minoranza incalza Marinucci dopo farmacie Nido Sport ai privati si chiedono i consiglieri d'opposizione. La pagina di Montesilvano. Scontro sullo Sprar. Basta con la città invasa dai bivacchi. Hashtag Montesilvano 2019 torna all'attacco sulla gestione dei rifugiati. Poca determinazione nel difendere i residenti più esposti. Il sindaco risponde e difende le sue politiche all'Anci. Dice sono un modello virtuoso. Invece Entoglialiano contesta. Ricordiamo che per finanziare il nuovo sistema di accoglienza sono state già anticipate centinaia di migliaia di euro dalle politiche sociali. Ieri davanti al municipio protesta con Striscione in piazza per dire no al degrado. Pochi cittadini davanti al municipio per la giornata di mobilitazione indetta dai comitati civici. Nel taglio basso corre e fa cadere i passanti pensionati in ospedale. Corso Umberto, l'uomo, un 41enne pescarese, aveva prima tentato di spogliarsi e è stato ricoverato in psichiatria. La nuova Pescara è in discussione, abbiamo già visto in precedenza. Disco verde in commissione, insorge Forza Italia, sospiri contro la legge che definisce un grande imbroglio. E poi nella pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, ospedale, la regione non torna indietro. Penne, bocciate di nuovo le richieste dell'associazione che vuole salvare la struttura sanitaria, ma i cittadini non mollano. Scendiamo, stadio inagibile, disponibili solo 99 posti. Terzo match gravato da problemi di sicurezza e il Penne 1920 domani. Ospita, l'acqua e sapone. Andiamo avanti, apriamo la pagina di Chieti adesso. Sosta per i negozi. Megalò, il comune da Ilvia, a mille parcheggi a pagamento. L'amministrazione di Primio rilancia il progetto e fissa le tariffe per l'area di proprietà pubblica. Si prevede un'entrata di 200 mila euro l'anno. La gestione va a teati servizi o a Chieti Solidale. E la sosta a pagamento, vedete, questo è lo specchietto riassuntivo con fasce orarie e prezzi. Colata di asfalto sui San Pietrini. Scoppia la protesta sempre a Chieti di Felice. L'assessore dice così. Si garantisce la sicurezza in centro storico. E nel taglio basso, la questione cinghiali, la regione perde anche in appello. a Lanciano, danni da incidenti stradali per il giudice. L'ente deve controllare la fauna selvatica. Continuiamo con la pagina della provincia teatina. Vince 2 milioni e lascia la fotocopia. Caccia lo scommettitore della tabaccheria Silvestri. La sorpresa con un biglietto da 10 euro. I gestori pensavamo ad uno scherzo. e poi la protesta dei lavoratori della Oneiwell che hanno bloccato ieri pomeriggio la Fondovalle. Corteo con i sindaci e il vicepresidente della regione. I sindacati convocati dal ministro Calende. Questa mattina protesta alle 10 davanti alla sede della provincia e della prefettura di Chieti. Intanto andiamo a vedere il servizio sul corteo andato in scena ieri pomeriggio. Raccontando la nostra storia triste. Una storia che è triste perché contrappone degli imprenditori senza scrupoli e delle famiglie che hanno bisogno di lavorare. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha convocato il tavolo nazionale per la vertenza Oneiwell martedì 17 ottobre a Roma. La notizia che riaccende la speranza è giunta durante la protesta messa in atto dalle maestranze in sciopero oltranza con presidio dal 18 settembre. Scortati da polizie e carabinieri in 200 e in corteo hanno raggiunto la Fondo Valle Sangro all'altezza dello svincolo per l'area industriale e hanno bloccato il traffico occupando l'intera carreggiata. I tir che percorrono la strada a scorrimento veloce e che unisce il mare Adriatico alle aree interne hanno dovuto fermarsi e fare retromarcia. Prosegue invece la protesta dei 420 lavoratori della fabbrica dei turbocompressori attraverso la voce delle RSU, FIM, FIOM e WIM. Finalmente c'è stata la svolta, finalmente iniziamo a trattare la vertenzone ai livelli nazionali. Che cosa vi aspettate da questo tavolo? Ci aspettiamo finalmente di iniziare a giocare alla luce del sole, finalmente non ci saranno più tatticismi e potremo parlare direttamente con chi sta prendendo decisioni sopra i nostri test. Noi vogliamo capire finalmente e sapere se stanno esplicitando quello che noi già sappiamo e di lì iniziare una vera e propria trattativa. Per noi è fondamentale che la convocazione salvi tutti i pozzi di lavoro, crei un punto fermo, un patto forte per il territorio, per l'occupazione e magari, perché no, aumentare e ingrandire le possibilità di assunzioni della One, questa sarebbe una bella speranza. Cautamente ottimista si è detto il vicepresidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, che assieme ai sindaci e delegati delle amministrazioni comunali del territorio ha aperto il corteo dei lavoratori. Fino a quando l'azienda non mette nero su bianco un progetto industriale credibile che noi finanzieremo, naturalmente secondo le procedute di legge, fino a quel momento io francamente rimango molto molto cauto. Naturalmente il fatto che ci si incontri è un fatto positivo, questo è innegabile e bisogna ringraziare il ministro che si è mosso in questa direzione. Adesso apriamo la pagina dell'Aquila sul quotidiano, il messaggero in apertura per la scuola di Amicis, appalto infinito, nuovo stop, il provveditorato per le opere pubbliche ha risolto il contratto con la ditta MGM, a questo punto i lavori potrebbero essere affidati alla seconda impresa classificata, una lungo dissia giudiziaria fatta di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. E poi la politica rischiona tra zoppa anche all'Aquila, 5-6 mesi per il verdetto, udienza a novembre, poi in caso di accoglimento dei ricorsi e quindi di nomina di un commissario per il controllo dei voti effettivi validi, 90 giorni per la relazione del CTO e poi la sentenza. Sono questi gli step del cosiddetto caso Anatra Zoppa che può essere eventualmente applicato al Consiglio Comunale dell'Aquila dopo il caso invece di Avezzano che vedremo tra poco. Scendiamo nel taglio basso, prostituzione severa condanna al cinese, tre anni e mezzo di reclusione al titolare di un centro massaggin via Salaria Antica Est. E poi ancora, parroco accusato di omicidio, il processo nel vivo a marzo, entrerà nel vivo a marzo, come detto, il processo a carico di Don Paolo Piccoli, il sacerdote di origine venete e già parroco dell'Aquila accusato di aver ucciso Monsignor Giuseppe Rocco di 92 anni. Andiamo avanti, sempre dall'Aquila, un grido esuli nella nostra città. Un partecipatissimo corteo studentesco ieri ha attraversato il centro cittadino da Colle Sapone fino alla Villa Comunale. I ragazzi delle superiori hanno detto basta alla provvisorietà delle sedi, gli edifici poco sicuri e alle promesse non mantenute. Intanto chiedo alla regia di preparare il servizio, mentre completiamo la lettura dell'articolo, andando a vedere anche le dichiarazioni del rappresentante degli studenti, Tommaso Cotellessa, dopo l'ultimo incontro con la provincia un mese fa non siamo stati più contattati. Quindi il corteo degli studenti che a livello nazionale protestano contro l'artenanza scuola lavoro all'Aquila ha virato sulla sicurezza degli edifici scolastici nella città ferita dal terremoto del 2009. Vediamo insieme il servizio. Un corteo bello e colorato, quello degli studenti delle superiori aquilane che stamane sono partiti dal polo scolastico di Colle Sapone per raggiungere poi la Villa Cittadina. Slogan all'indirizzo delle istituzioni, tutte e nessuna esclusa, per chiedere innanzitutto sicurezza rispetto all'edilizio scolastica, certezze sui tempi e tutela del diritto allo studio. Esuli nella nostra città, lo slogan scelto per manifestare al ritmo di musica e canti, pacificamente e con molta intelligenza. Una battaglia che però per gli studenti deve essere di tutta la città. La richiesta che purtroppo è la solita è quella della sicurezza, è richiesta di trasparenza da parte di tutte le istituzioni, a partire dalla provincia dell'Aquila a seguire con il Comune. Il nostro bisogno nasce dal fatto che dopo otto anni e mezzo dal terremoto ritrovarci in una situazione del genere è inenarrabile e adesso noi quello che vogliamo richiedere, insomma nello specifico, è anche sapere le tempistiche per quanto riguarda l'Ex Optimus, quando verrà trasferito il convinto nazionale Domenico Cotugno lì e stiamo aspettando delle risposte. Il messaggio che noi vogliamo mandare alla città è diverso, noi vogliamo che questa non sia la battaglia delle scuole ma sia la battaglia di una città. La situazione del liceo e convinto Cotugno resta la più complicata con un autentico spezzatino effettuato per poter permettere il rientro ad inizio anno scolastico degli studenti. Anche i docenti hanno scelto di appoggiare la protesta degli studenti ed erano presenti a chiusura corteo con uno striscione, tutti in piazza a rivendicare diritti sacrosanti e un po' di normalità che a otto anni dal sisma andrebbe ripristinata ma non a chiacchiere in sicurezza. Noi docenti del Cotugno abbiamo una situazione diversa da quella degli altri docenti di questa città, fermo restando che il problema della sicurezza delle scuole è un problema di tutti e che magari anche i docenti lo sentono, però la nostra situazione è molto diversa perché noi siamo una scuola dell'Aquila senza scuola. Non abbiamo le mura, noi siamo dispersi su cinque sedi diverse che non sono sedi nostre perché se fossero cinque sedi nostre si sopporterebbe meglio ma siamo ospiti di altre scuole, creiamo disagi, abbiamo disagi noi e li creiamo agli altri perché in realtà siamo ospitati da presidi fantastiche, da colleghi fantastici ma abbiamo grosse difficoltà. Completiamo le notizie dall'Aquilano con Avezzano, il ribaltone, De Angelis non mi dimetto dalla pagina del centro, il sindaco non farò mal con le lezioni con Di Pangrazio e se avrò torto si tornerà al voto. Il primo cittadino di Avezzano se lasciassi l'incarico adesso farei un grave danno alla mia città, in questo periodo cercherò di amministrare di più e meglio di prima. Non ci sarà nessun compromesso con l'ex sindaco, il nostro programma è il Vangelo e chi deciderà di governare con noi dovrà accettarlo. Queste le parole di De Angelis. Andiamo a vedere anche sul centro alla pagina di Teramo il caso all'Unicredit, soldi spariti, bancario nei guai, esposto di un professionista ai carabinieri, dal mio conto tolti 250 mila euro. L'istituto nessun commento, avviato un'indagine interna e sospeso il dipendente sotto accusa, anche la procura indaga, altri clienti avrebbero presentato degli esposizioni posti per segnalare a Manchi e poi la Atria, lo sciopero si allunga, la vertenza rimane aperta, abbiamo visto anche in precedenza. Andiamo a vedere la pagina di Teramo sul messaggero, Corso San Giorgio, riapri a Natale per ospitare eventi. Il programma, il festival della cioccolata e quello bavarese. E poi la Coppa Interamnia, l'edizione 2018 con 200 squadre da tutto il mondo. Nel taglio basso, 1000 sms dallo stalker e droga nel fienile. Proseguiamo con la pagina della provincia. Via Sauro Stop passano gli anarchici. Il corteo attraverserà anche via Lorsini e Giulianova, il paese, fino al campetto. Una ditta è giunta da fuori per rimuovere le pietre e niente lavori. Intanto il sindaco promette la riapertura lenta al traffico veicolare e il fermo a ridosso della Immacolata. Andiamo a vedere la città adesso. Le altre notizie dal Teramano. Secondo Maxi, risarcimento per il crack Tercas. Oltre di Matteo, il Tribunale Civile condanna anche il Vicepresidente Claudio Di Gennaro per 176 milioni. La Camera di Commercio. La sede di Teramo a riparo dal decreto calenda. Il Presidente Lanciotti rassicura imprese e associazioni terramane sulla permanenza dell'ente. In città ricorsi al Tare, il destino di Teramo scritto nel decreto di gennaio. Poi quattro regioni hanno già presentato ricorso contro il decreto di agosto. Obiettivi ambiziosi per la Coppa Interamnia numero 46. Abbiamo visto anche in precedenza il titolo sul quotidiano Il Messaggero. Raddoppiate le squadre. Questo è l'obiettivo degli organizzatori. Andiamo a vedere la politica terramana. Dopo il bilancio scatterà il totopanettone. Tra Halloween e festa dei defunti inizierà il conto alla rovescia per l'amministrazione Brucchi. Andiamo a vedere la pagina della provincia con il ritorno sui fondi per le province per sistemare le strade. D'Alfi accoglie le proposte di Renzo nella conferenza stampa che c'è stata a Pescara. E poi la cronaca. Cocaina nascosta nelle balle di fieno in manette un 36enne albanese. Basciano ancora cronaca. Rubati computer e carte d'identità. La drenazione a scuola e in municipio portati via i pc delle lavagne interattive appena donate. E poi altra notizia di cronaca. Si schianta contro un muretto e grave a Sant'Egidio, 25 anni, in terapia intensiva dopo il botto lungo Viale Kennedy. A Giulianova i cani tolgono altro spazio ai bambini e provate quattro zone riservate nei marridotti parchi cittadini. La fiera del turismo di Girolamo a Rimini trova i depliant di Pavone. Le pubblicazioni promozionali dell'amministrazione comunale sono rimaste ai tempi del centro-destra che governava Roseto. Ancora, sempre dalla pagina di Pineto a Trisilvie e Roseto, costruiremo un fondo destinato al turismo. Il Partito Democratico risponde alle critiche degli albergatori. Il contributo non serve per sanare i bilanci. Lasciamo la città. Andiamo adesso ad aprire la pagina dedicata allo sport. Andiamo a vedere quella relativa alla Serie B. Si parla ovviamente di Parma-Pescara. Mancuso e Capone ci sono. Ecco le mosse di Zeman. Il boemo pensa ai cambi in attacco. Coulibaly-Malconcio. Pettinari resiste. Più di 30 anni fa l'ultimo colpo dei biancazzurri in Emilia. Zela e Zeman hanno allenato i giallo-blu nell'87. I ducali non vincono tra le muramiche dal 26 agosto scorso. Hanno uno dei peggiori attacchi del campionato. Bova infortunato in difesa. Spazio alla coppia centrale composta da coda e dal rientrante per rotta. Nella pagina successiva gli avversari. D'Aversa recupera Ceravolo il Rosetano Dezzi titolare. L'allenatore pescarese del Parma dice vogliamo vincere ma non sarà facile. Di Cesare e Germoni sono infortunati. Al Tardini attesi 250 tifosi biancazzurri. Intanto nell'anticipo di ieri Gerbo e Mazzeo fanno felice il Foggia. Perugia al terzo stop. Partita finita 2-1. Andiamo a vedere anche le probabili formazioni della partita del Tardini. Fischio d'inizio alle ore 15. Il Pescara con 4-3-3 classico di Zeman. Pigliacelli in porta. Mazzotta Cote per Rotta e Zampano in difesa. Coulibaly, Canutè e Brugman a centrocampo. Capone, Pettinari e Mancuso in avanti. Per quanto riguarda il Parma. Modulo speculare sempre 4-3-3. Frattali in porta. Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo e Scaglia in difesa. Dezzi, Scozzarella e Scavone a centrocampo. Siligardi, Calaio e Baraje in avanti. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina relativa allo sport d'Abruzzo sul quotidiano Il Messaggero. Chiaramente si parla del Pescara. Pescara, vediamo se ci sei. Dopo la sconfitta interna con il Cittadella, i Biancazzurri sono di scena a Parma contro una formazione ambiziosa. Il tecnico cambia qualcosa per trovare il suo undici ideale. Dentro Mancuso e per Rotta potrebbe stare fuori Brugman. Ci sono diversi dubbi sulla formazione che metterà in campo Zeman. A centrocampo potrebbe toccare a Balsani. In difesa resta anche il dubbio Mazzotta-Balsano. Le formazioni con le difese rimaneggiate, perché anche nel Parma ci sono delle assenze. E D'Aversa dice, eccolo qui, mi aspetto che le punte si sblocchino. Questo per quanto riguarda gli avversari. Nel taglio basso il calcio a 5. Oggi contro la Dinamo Mosca c'è in ballo l'Europa per il Pescara. La sfida decisiva ai pescaresi basta un pareggio per superare il girone, grazie alla differenza reti. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere la Serie C. Teramo in campo, Altobelli-Amadio, i dubbi di Asta si cambia in attacco. Il titolo, i biancorossi al Bonolis contro la Corazzata Padova. Pronti Foggia e Bacio Terracino. Tulli va in panchina. Sempre sul Teramo. Andiamo a vedere anche il titolo del messaggero. Teramo cerca l'impresa in casa contro il Padova. Titolo sul Teramo anche della città. Andiamola a recuperare subito. Eccolo qui. Il Teramo prepara il colpo contro il Padova. Questo è il titolo della città. Anticipo di campionato al Bonolis. Asta sceglie Foggia e Bacio Terracino. Per Bisoli idea Cisco dall'inizio. La regola del numero 7. Finora il Teramo in 7 confronti ha segnato 7 reti mettendo insieme 7 punti. Oggi pomeriggio deve cercare la vittoria. Asta per ciò che abbiamo dimostrato. I punti sono pochi. Andiamola ad ascoltare il tecnico del Teramo. Teramo in campo qui domani al Bonolis per affrontare il Padova. L'ultima gara di un trittico di partite che ha visto la squadra di Asta affrontare. Formazioni di vertice. Trittico iniziato con la Feralpi e poi proseguito domenica scorsa contro il Bassano. Padova che si è allenato anche a Teramo per provare il sintetico. Che dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Guidone e Capello in avanti. Andiamo ad ascoltare le parole di Asta proprio sul prossimo avversario. Squadra esperta, squadra di qualità, squadra anche esperta in certe zone ma anche giovani di valore. Perciò è un mix giusto. Mi aspetto un Padova come le ho viste nelle ultime gare che comunque gioca con parecchi attaccanti. Due attaccanti, tre quartiste, centrocampisti si inseriscono molto, i terzini si propongono. Quindi è una squadra proiettata molto alla fase offensiva. Quindi domani per l'ennesima volta dobbiamo fare una grande gara difensiva e sfruttare al meglio quelle occasioni che ci capiteranno. Per quanto riguarda invece il Teramo, Asta dovrebbe confermare l'ormai consueto 3-5-2. Ci saranno alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista contro il Bassano domenica scorsa. Foggia e Bacio Terracino dovrebbero essere la coppia d'attacco scelta dal tecnico Biancorosso. E udite udite, al centrocampo potrebbe anche esserci la conferma di Graziano però nel ruolo di play. A dispetto di Amadì ho provato molto spesso in settimana che sembrava dunque prossimo al rientro. Mentre in difesa Altobelli dovrebbe essere preferito a Sales. Ma Asta parla anche, ha parlato questa mattina di qualche punto in più che avrebbe preferito ovviamente rispetto agli attuali sette del Teramo. Siamo fin qui raccimolati appunto dalla squadra biancorossa. Ascoltiamo. Per quello che abbiamo dimostrato in campo dovevano essere, non dico molti di più, sicuramente qualcuno in più. E questo no, perché poi le partite le abbiamo fatte, tolto il primo tempo di Pordenone, ma questa è un'acqua passata, lo sappiamo. Però non posso dirvi che, insomma, un pochino, non dico che mi preoccupa come dicevo prima, però, insomma, quando giochi bene e non vinci, insomma, mi preoccupo sì. Perché giochi bene, fai buone prestazioni e non vinci, allora forse magari giocare meno bene e portare a casa qualcosa. Ma sicuramente forse succederà così anche qualche altra volta. Però non c'è dubbio che dobbiamo pensare che quando proponi 4-5 palle gol di cui 2-3 clamoroso come a Bassano e tu per tu col portiere, non puoi pensare poi di vincere le partite se non fai gol. E infine, proprio per quanto riguarda gli attaccanti, il tecnico Biancorosso si augura che a fronte delle numerose occasioni avute finora dalla sua squadra, gli stessi attaccanti non entrino in un tunnel che poi sarebbe difficile da superare per quanto riguarda appunto una maggior concretezza sottoporta. Lavoriamo in settimana con i giocatori, con delle esercitazioni mirate, ma a volte purtroppo quando arrivi negli ultimi 20 metri non ci sono grandi esercitazioni. Lì c'è la qualità del giocatore, la freddezza e magari in questo momento cosa mi dispiace se magari gli attaccanti entrano in un tunnel critico anche loro su loro stessi, l'autostima è minore, tanto sbaglio, ecco questo non deve succedere. C'è tempo soltanto per andare a vedere una notizia di Serie D che traiamo dalla pagina del centro. Il Francavilla perde anche a mente Velardi, sono 10 gli indisponibili dall'Aquila, intanto si cercano contributi per la gestione corrente. Vedete anche la giornata in Serie D, in eccellenza, in promozione. Il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ringrazio per averci seguito. Con Mattino 6 vi do appuntamento a lunedì alle ore 8, oggi invece la nostra informazione con il TG6 torna alle 14, alle 19 e alle 23 e poi non perdete ovviamente l'appuntamento con Diretta Stadio per seguire la partita del Pescara e quella del Teramo. Grazie, è veramente tutto, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie a tutti.